Presidente, lei ha sottolineato l'importanza di salvaguardare la qualità dei nostri prodotti anche dal punto di vista igienico-sanitario da interferenze in debite. Che cosa dice in merito? I nostri non hanno bisogno di essere salvaguardati perché sono sicuramente i prodotti, dal punto di vista igienico-sanitario, migliori al mondo. Io sono preoccupato quando sento delle affermazioni, come ho detto, da dei comici travestiti e politici che denigrano o possono pensare che i nostri prodotti vengono inquinati. Questa è una preoccupazione che combatteremo in tutte le sedi. Quindi l'agricoltura può anche temere qualche nemico all'interno, visto che parlava anche di lotte fratricide. Le guerre fratricide sono sempre le peggiori che ci possono essere. Se gli stranieri possono prendere spunto da delle dichiarazioni di qualcuno, possono cavalcare queste cose e questo assolutamente non deve avvenire.